152 OS assunti a tempo indeterminato dall'ASL Lanciano Vasto Chieti. Si sono concluse le procedure di assunzione del concorso e la graduatoria è stata ufficializzata. Sarà completato il piano del fabbisogno programmato per il 2023 con le nuove assunzioni che vanno a sommarsi alle precedenti e portano a 510 il numero di operatori sociosanitari con contratto di lavoro a tempo indeterminato a fronte dei 61 che prestavano servizio nel 2020. Eravamo in attesa della pronuncia dei giudici amministrativi sul concorso, ha spiegato il direttore generale Thomas Schell, per poter procedere alle assunzioni che i vincitori aspettavano legittimamente. Inoltre è stata prorogata al 30 settembre la scadenza degli OS che prestano servizio attraverso le cooperative. Intanto in Abruzzo potrebbe essere scelto alla guida delle aziende sanitarie una vecchia conoscenza del Molise. Parliamo di Oreste Florenzano, l'ex direttore generale dell'ASREM. Il suo incarico in Molise è scaduto alla fine dello scorso febbraio e al suo posto venne nominato un commissario, Evelina Gollo, alla guida dell'azienda sanitaria di via Ugo Petrella. Florenzano si è ricandidato per tornare a ricoprire quel ruolo, ma l'aggiunta di Francesco Roberti non si affiderà di nuovo al manager Campano. È un bravo professionista, detto qualche giorno fa a primo piano Molise il governatore, ma non rientra nella mia idea di sanità. Da quello che mi è stato riferito dell'incontro di ieri ci sono buone possibilità. Certo, bisogna...